L'ultima gara del 2018 mette di fronte il Delfino Flacco Porto in cerca di riscatto dopo il KOH Pistrello e l'Arenato Curiangolana reduce dal successo contro il Sambuceto in uno scontro diretto tra due formazioni che vogliono rimanere fuori dalla zona play-out. La gara si apre con l'invenzione di D'Alonzo che, dai 30 metri, trova la traversa a falso pietrificato. Rispondono i locali con Ligoschi, sfera di poco al lato. Subito dopo, tocca a Di Giovanni, falso, disinnesca la sua conclusione. I locali ci provano con Giannini, Abate, con un colpo di Reni, toglie la sfera dall'incrocio. Nella ripresa, l'angolana parte subito sull'acceleratore e si rende pericolosa prima con D'Aie e poi con Natale. Falso si fa trovare pronto. Il portiere è ancora protagonista sulla punizione di Nepa. Lo stesso numero 16, poi, non riesce a trovare la rete da pochi passi. Nel finale, Bizzarri e Ndiaye si ostacolano a vicenda e non finalizzano. All'ultimo respiro, Bizzarri va in gol per i Nerazzurri, ma il direttore di gara annulla per un fallo precedente. Finisce così 0-0 con gli ospiti che si rammaricano per non aver sfruttato le tante occasioni avute e di Biancazzurri che, invece, chiudono a 24 punti un 2018 da ricordare. Il bicchiere in questi casi si vede sempre mezzo pieno, anche dal fatto che è stato espulso il nostro giocatore. Gli ultimi dieci minuti o un quarto d'ora abbiamo giocato uno in meno, però è un punto d'oro per quello che dobbiamo fare noi contro una diretta concorrente che è l'Angolana, che si trova sotto di noi e quindi era molto, molto importante non perdere. Quindi siamo molto contenti per questo punto. No, non mi soddisfa, però chiaramente il calcio, la colpa è stata nostra che non siamo stati in grado di concretizzare la mola di gioco perché abbiamo sbagliato molte finalizzazioni e anche ultimi passaggi, quindi la colpa è stata nostra. Siamo arrivati tantissime volte al cross o gli ultimi 30 metri, ma abbiamo sbagliato anche tanto, quindi colpa nostra. Però chiaramente è una bellissima prestazione.